Questa è la sua ala. Signore e signori, l'ambasciatrice designata, Katrin Weiler. Benvenuta, è un vero piacere averla. Piacere di conoscervi. Benvenuta all'ambasciatrice. Molto lieta. Benvenuta, ambasciatrice. Wow, buongiorno, siete tanti. Salve. Salve. Benvenuta all'ambasciata. Grazie. Mi scusi, madame. Ho l'ambasciatore Weiler al telefono per lei. Vuole rispondere nel suo ufficio? Quello laggiù. Sì. Glielo passo. Grazie. All'ambasciatore. All'acqua. Grazie a tutti.